ci vediamo un attimo più tardi perché adesso vogliamo nuotare fare il bagno eccetera qua è tutto fantastico ragazzi tutto ok ciao buon pranzo se non avete ancora mangiato a dopo ciao dai singoli in tour a saturnia e mi raccomando il primo maggio saremo a primo maggio serata dei single sulle colline di maranello per chi viene da fuori può prendere il treno arrivare bologna alle otto e mezza di mattina e veniamo a prendere con il pulmino quindi fate in modo da arrivare a bologna il primo maggio alla stazione di bologna ore 8 e 30 di mattina nel caso sei interessato mandami whatsapp al mio 335 33 45 81 ok ciao a tutti ciao vi aspetto il primo maggio sulle colline di maranello fermata bologna bologna stazione centrale